Un vero e proprio bazar di refurtiva che va dagli oggetti d'oro, orologi, computer, tablet, telefonini, gemme di valore, passando per selle da cavallo di pregiata fartura e finendo con utensili da lavoro e da officina meccanica. C'era di tutto nel furgone Mercedes a passo lungo, fermato nei pressi del casello autostradale della 14 nelle prime ore della mattinata di oggi dagli agenti del reparto autostradale di Fano. Per intuito, esperienza o fiuto investigativo degli agenti che sia, fatto sta che il mezzo, pur non facendo nulla di strano, ha attirato l'attenzione della pattuglia che lo ha subito fermato. A bordo del furgone che viaggiava in direzione nord, quattro uomini di nazionalità rumena, risultati poi dai controlli effettuati, tutti con numerosi precedenti e segnalazioni di polizia. Bastava questo ai poliziotti per effettuare una perquisizione del mezzo e scoprire la gran quantità di oggetti senza un apparente ordine logico né alcun imballo o indirizzo di destinatari. Accompagnati a luna di notte nella stazione di Fano, iniziava così il meticoloso lavoro degli agenti ai riscontri della refurtiva ed i primi dati non tardavano ad saltar fuori dai furti denunciati in zona messi in relazione con gli oggetti ritrovati. I quattro rumeni sono stati quindi indiziati per ricettazione ed intesa con l'autorità giudiziaria sottoposti a fermo e portati in carcere a Villa Fastigi, ritenendo il giudice fondato il pericolo di fuga della banda.